Mi chiamo Elia, sono nato qui a Milano nel 1990. Abito da quando sono nato a Quinto Romano, che è il quartiere a fianco Quarto Cagnino. Fin da piccolo l'arte è stata una delle mie principali passioni, ho fatto diventare pazze non so quante maestre con le mie distrazioni, con i disegni. Un'immagine può essere trasmessa, un'immagine può essere vista, può essere interpretata. Io porto l'improvvisazione, che è la mia arte. Grazie a tutti.